Salve, sono Carlo Cipollone, attualmente preside dell'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma e dell'Istituto Armando Diaz di Roma. Lavoro in campo internazionale da molti anni per azioni di supporto anche sull'incarico del Ministero dell'Istruzione e personalmente ho avuto un'esperienza come direttore dell'Ufficio Scolastico Consolare a Boston per sei anni. La mia è una funzione prettamente educativa, quindi non soltanto organizzativa. Questa occasione, cioè l'anno internazionale della cittadinanza europea, credo debba dare a tutti quelli che operano nel campo dell'educazione un'opportunità per rilanciare la sfida e costruire un'Europa che sia fondata su alcuni principi essenziali. In modo particolare la nostra scuola, le nostre scuole, partecipano a delle azioni promosse dai vari attori, progetti Leonardo, scambi culturali, progetti multilaterali e attualmente abbiamo anche lanciato alcune iniziative extracontinentali di rapporto con l'MIT e di alcuni scambi con università americane per favorire tirocini internazionali. L'obiettivo è quello di considerare non soltanto lo scambio come valore, ma anche la creazione di nuove competenze, quelle dettate sia dal Trattato di Lisbona e quelle che vengono poi a supporto di tutta l'azione della riforma scolastica nostra e degli altri Paesi membri. La scuola costruisce sapere, ma costruisce anche valori. In questo momento io ritengo che lo sforzo di tutti nel far veramente diventare un valore la competenza sia un patrimonio che dobbiamo assolutamente conseguire. Penso in particolare a come i ragazzi acquisiscono informazioni oggi, attraverso degli input veloci, quindi hanno solo l'informazione e non il valore della competenza. Noi stiamo costruendo un quadro di riferimento attorno al quale tutti si possono muovere per certificare le proprie competenze, come se fosse un grande quadro svedese dove i cittadini possono arrampicarsi e costruire. Però se vogliamo effettivamente fare qualcosa di più, dobbiamo lasciare ai ragazzi la possibilità di inventare le proprie competenze e fare in modo che non esercitano solo il diritto di essere cittadini, ma anche il dovere di creare nuovi posti di lavoro basandosi sull'immaginazione e sulla loro creatività. Questo penso che sia la sfida che le scuole e tutti gli attori debbano sposare nel futuro. Grazie.